Quando un amico se ne va, o se porta a provo anche alla porta di noi altri, che con lei abbiamo fatto un tocco di strada insieme, con progetti e impegni che non vi storiamo in questa stessa borca. O se porta a provo i suoi e i nostri sogni, i suoi e le nostre speranze. Ma se ho l'enormo come Elmo, desegui, oppure ha realizzato l'asci, quello che chiuso, ho dovuto sospendere. Perché? Perché la qualità di una persona non si perde in te nasciamo, ma continua a brillare in te l'infinio dell'eternità, dove quelli che hanno detto tanto siamo premiati. Ciao Elmo, un humore che la resta in tuo cuore di tanta gente. Per gli altri ti è sempre presente.